Un influencer siciliana è stata denunciata dalla polizia postale di Firenze per istigazione al suicidio. Dopo una complessa attività di indagine e di monitoraggio della rete internet, gli investigatori hanno individuato su un social network un link riconducibile al profilo di una 48enne della provincia di Siracusa, nel quale si visualizzava un video di una sfida tra la donna e un uomo, in cui entrambi si avvolgevano totalmente il volto, naso e bocca compresi, con nastro adesivo trasparente, in modo tale da non poter respirare. Su disposizione della procura distrettuale di Firenze abbiamo eseguito una perquisizione e contestuale sequestro nei confronti di una donna siracusana. Questa donna era un influencer nel noto social TikTok. Alcuni video rappresentano un vero e proprio pericolo, pubblicati da quest'utente rappresentano un vero e proprio pericolo. Uno di questi in particolare in cui si vede la donna che proponeva una sfida, avvolgendo il proprio volto con un adesivo trasparente, in modo tale da impedire la respirazione. Ecco, la procura ha visto come estremamente pericolosi questi video e ha ordinato l'immediato sequestro non solo dei dispositivi ma anche degli account social. L'indagine ha appurato che l'influencer nel tempo aveva pubblicato numerosi altri video con sfide di entità simile e che le hanno permesso di ottenere popolarità e followers di diversa età.